Prima i pescaresi, almeno i bimbi in età giusta, poi tutti gli altri. Per il prossimo anno scolastico l'iscrizione ai nidi d'infanzia sarà riservata prioritariamente alle famiglie locali. Soltanto se rimarranno posti liberi sarà poi aperta a quelle da fuori comune, le quali però pagheranno la retta per intero, indipendentemente dal reddito. Le uniche eccezioni, grazie agli emendamenti dell'opposizione, riguarderanno i residenti dei comuni di Montesilvano e Spoltore, futuri conglomerati della nuova Pescara. Il regolamento dei nidi d'infanzia comunale è stato approvato ieri in Consiglio, ovviamente senza il sostegno della minoranza. Le iscrizioni partiranno nel mese di giugno. La fascia di età comprende i bambini dai tre mesi ai tre anni di ogni etnia, purché residenti nel comune di Pescara. La residenza deve riguardare il bambino e almeno un genitore. Il problema potrebbe sorgere soprattutto per quei genitori che risiedono fuori provincia ma lavorano in città e quindi approfittano, tra virgolette, delle strutture pescaresi. Gli asili in iso al comune di Pescara hanno un costo molto ma molto elevato e quindi assieme all'amministrazione comunale abbiamo deciso di dare la priorità ai cittadini, quindi ai bambini di Pescara, che pagano le tasse per intero al comune di Pescara. Ho fatto già il giro dei sette asili nido che noi abbiamo su Pescara e sto cercando di risolvere per evitare che i bambini rimangano fuori. Aggiungendo qualche posto e qualche sezione forse riuscirò ad accontentare tutti, chiaramente prima quelli di Pescara. E a seguire sappiate che non negherò la possibilità a nessuno di venire al comune di Pescara. Sappiamo benissimo che negli altri comuni c'è una carenza di asili nido. Se ci saranno i posti per coloro che non sono residenti al comune di Pescara, la quota la devono pagare per intero. Certo, possono sollecitare le proprie amministrazioni che se vogliono possono contribuire al pagamento dell'iscrizione dei bambini dei comuni che non sono residenti a Pescara. Abbiamo in effetti ottenuto l'approvazione di un emendamento che riguarda nello specifico la nuova Pescara perché questo permette ai bambini residenti nei comuni di Spoltore e di Montesilvano di entrare a pieno diritto nella graduatoria dei pescaresi. Per noi comunque questo resta un regolamento fatto di fretta con tanti elementi che non vanno, ma ripeto, il problema principale è l'indirizzo politico che è stato dato. Prima i pescaresi e poi tutti quanti gli altri. Quando un'amministrazione avrebbe il diritto, oltre che l'opportunità, visti i fondi che arrivano dal sistema nazionale, di garantire il più possibile questi servizi anche attraverso l'attivazione di educazione domiciliare oppure asili nido aziendali.